Veleni di bussi, ci risiamo. Come se non fossero bastati anni e anni di indagini e processi sull'interramento di sostanze pericolose e il conseguente inquinamento delle falde acquifere, c'è chi, stando a quanto emerso dalle indagini della procura di Pescara con l'ausilio del reparto operativo arenovale della Guardia di Finanza, ha continuato addirittura per anni a sversare nelle acque interne di falda sostanze altamente nocive. Questa mattina di buona ora, secondo quanto disposto dal GIP, intanto i sigili di sequestro preventivo di uno stabilimento all'interno del polo chimico di bussi sul Tirino e l'iscrizione sul registro degli indagati di due persone. I fatti andrebbero avanti, secondo le indagini, addirittura dal 2015. In base ai riscontri della procura, i due indagati legati alla società che gestisce lo stabilimento sequestrato sono ritenuti responsabili della compromissione del deterioramento delle acque interne di falda nonché del terreno circostante. Ai responsabili si contesta il non aver impedito lo sversamento di sostanze altamente inquinanti pericolose per la salute pubblica e per gli organismi acquatici, con effetti anche permanenti. La condotta, ripetuta nel tempo, avrebbe causato una significativa alterazione all'integrità delle matrici ambientali, nonostante le molteplici sollecitazioni ad intervenire pervenute dalle varie autorità di controllo preposte.